Buonasera a tutti, io sono Valentina, abito e dormo da circa 16 anni, lavoro a Stavia che mi è commessa ma soprattutto sono la mamma, sono la mamma dei due bimbi, uno è quello che parlava in alto e uno è quello che piangeva fuori prima. Quando un po' forte di questo mio ruolo di mamma ho deciso di affiancare Maria Roda in questo progetto perché comunque il nostro progetto ha come punto, uno dei punti fondamentali proprio i bambini, i bambini che si attenziano al futuro e i bambini meritano di vivere in un adorno più propositivo, un adorno più dinamico e un adorno più sicuro. Io non mi candido come un politico, io mi candido come una persona che come voi e come voi pensa di poter fare qualcosa, di dare il contributo fondamentale proprio per avere un adorno più vivibile, più serena e senza un malcontento generale che comunque non si sente nell'aria. Io sono stata brevissima perché sono emozionantissima.